Ruuu! No, è il canale tuo, quindi... Com'è la tua intro? Non ha intro, Cristina! 70 anni che fa video e non ha intro! Faremo la transport challenge? Guarda, guarda là! Guarda! Faremo la transport challenge e ci sfideremo! Sì, sto guardando! La! Ma lo so dove guarda! Vabbè, basta! Ringraziamo i promotori Sporting Center e Capparicius che ci ha fatto entrare nel suo canale e anche Andrea che è là che sta... Lo facciamo pure vedere! Lo facciamo anche nere, qui è qua Andrea? Nere! Lo facciamo nere! Non abbiamo copiato FabiJMates, no? Ti sta toccando il pene, Marco! A Cristina ti tocca il culo, guarda! Ma che c'entra che sto bene? E' la tirata là! Oddio! Oh! Oh! Questa è la sua! Ma come scialla? Si si sta fuori! E' la sensazione di Elena! Porta la balla eh! Porta la balla eh! L'ultimo che arriva si spalma la nutella! Non è una male? Non è una male? Non è una male... Quindi persi lei perderà Marco esulta capito Però dovemo di che alessio gioca a pallone c'è diciamolo Sei capitano Le camere Vorrei un Ricordiamo che tutti quelli che hanno perso Sì Rubino ha pensato a perso e nessuno l'ha visto Nessuno l'ha visto Lo devi fare perché nessuno l'ha visto Vabbè muo che cazzo lo faccio Sen coglioni Le bocce di Cristina Ma dov'è Reda? Ah Ah Era l'ultimo eh E' cascata Cristina Si so pazzo io so pazzo Mi chiamano Reda Così ti chiami Osserviamolo Non si dicono parolacce Ehm 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 Oddio 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 Ragazzi Ragazzi questa è la cross bike challenge del generato al massimo A moto nostro Ehm Ehm Quarantamila No perché sennò dicono tu chiedi like Sì ehm beh lei chiede i like qual'è il problema? Quanti like? Diecimila? Diecimila like per un'altra challenge Magari tutti insieme E Cristina dice parolacce E comunque seguita anche Marco Foglia su Su Youtube E anche David Rubino E poi ragazzi questo era il video Un'ultima magia Seguitemi pure a me Oh Belli ragazzuoli